Ciao Alessa, che te vedi? Ah, l'uomo vitruviano! Interessante? Sigla! L'uomo vitruviano, oggi inciso sulla nostra moneta da un euro, è un disegno eseguito su carta bianca con punta metallica, penna, inchiostro e tocchi di acquerello. Conservato oggi nel gabinetto dei disegni e delle stampe, delle gallerie dell'Accademia di Venezia, non è esposto. L'autore è Leonardo e il foglio risale verosimilmente agli anni del suo soggiorno milanese, più precisamente al 1490. Seppure l'uomo raffigurato in questione è frutto degli studi di Leonardo, è connotato con l'aggettivo vitruviano, perché lo storico dell'architettura Rudolf Witkover nel 1949 chiamò il disegno figura vitruviana nel suo Architectural Principles in the Age of Humanism. Il libro divenne così famoso che ancora oggi è letto, studiato e citato migliaia di volte nella letteratura specialistica e divulgativa inerente alla storia dell'architettura. A questo punto, una volta che il soggetto di Leonardo ascese a simbolo del Rinascimento, l'indicazione figura vitruviana non fu più messa in discussione. Il De Architettura di Vitruvio, architetto, teorico e scrittore romano, era l'unico trattato del mondo classico ad essere sopravvissuto, e pertanto letto, studiato, memorizzato. Durante gli anni in cui Leonardo si stava formando a Firenze, del trattato ne giravano almeno una decina di copie, di cui alcune accessibili, come quelle nelle biblioteche dei conventi di San Marco e di Santo Spirito. Benché celebrato, il testo risultava problematico, perché corrotto nel corso dei secoli, senza contare che Vitruvio non scriveva in un latino preciso e scorrevole, ma in gergo tecnico, pieno di termini incomprensibili. Tutto ciò non scoraggiò scrittori, artisti ed architetti nel cimentarsi nell'interpretazione del testo, e in special modo in uno dei suoi passi, quello in cui Vitruvio, deliberando le proporzioni del corpo umano, dichiara come, con braccia e gambe divaricate, l'uomo fosse iscrivibile in un cerchio in un quadrato al tempo stesso. Il pezzo di carta di cui stiamo parlando oggi rappresenta uno straordinario studio delle proporzioni umane, con una figura ideale in due posizioni diverse, a gambe divaricate e congiunte, iscritta entro le forme assolute del cerchio e del quadrato. Molti i significati e le possibilità di lettura sottesi nella raffigurazione. Il cerchio e il quadrato, che sin dal Medioevo erano stati utilizzati quale rappresentazione simbolica rispettivamente del cielo e della terra. Oppure la presenza di una figura umana al loro interno è l'illustrazione esplicita delle corrispondenze tra macrocosmo e microcosmo. Per quanto riguarda la celebre carta, si tratta di un disegno incorniciato dalla descrizione del disegno stesso. Leonardo ha indicato i margini con due sottili linee verticali. Queste corsie si ritrovano in molti monoscritti del 300 e del 400 e la loro presenza lascia intendere che il Da Vinci si sia cimentato in un'impaginazione professionale, come oggi faremo con InDesign. Siamo di fronte a un unicum, nessun altro foglio del corpus di Leonardo è impostato in questo modo. Il foglio, come si direbbe in latino, si apre con un testo in cui Leonardo condensa due passi di vitruvio in merito alle misure. Ve ne dico due al volo. Quattro dita fanno un palmo, quattro palmi fanno un piede. Al di sotto del celebre disegno abbiamo una scala metrica che riporta due unità di misura, il dito e il palmo, mentre subito sotto un'altra iscrizione dove Leonardo riporta tutte le proporzioni umane da lui ricavate nel corso dei suoi studi, iniziati nel 1487 sul corpo di modelli, ma quelli di migliora grazia che, analizzandoli nel dettaglio, gli avrebbero permesso di avere intera notizia delle misure dell'uomo. Uno studio di Leonardo sulle proporzioni rivela che il nostro artista chiese ai suoi modelli di sedersi, inginocchiarsi, girare i palmi delle mani e piegare le braccia, così che potesse misurare la distanza fra le articolazioni, che nel disegno evidenzia con dei segmenti verticali applicati parimenti nell'uomo vitruviano. Faccio notare che l'aggiunta delle braccia superiori comporta quello che è l'errore proporzionale dell'uomo vitruviano. Facendo toccare le dita medie nel punto più alto di intersezione di quadrato e cerchio, Leonardo allunga le braccia. Esse sono più lunghe di un paio di dita rispetto a quelle orizzontali. Ciò spiega anche perché il Da Vinci non evidenzi nel testo nessuna misurazione sulle braccia alzate, che infatti non sono in proporzione con il resto del corpo. Svariati personaggi a cavallo fra 4 e 500 provarono pertanto a porre in rapporto la figura umana, il cerchio e il quadrato, come fecero prima di Leonardo l'architetto, pittore e ingegnere Francesco Di Giorgio Martini e Giacomo Andrea da Ferrara, architetto anche egli. Entrambi conoscevano Leonardo. La prova proseguì nel corso del 500, ma quella di Leonardo è considerata ancora oggi la soluzione più elegante, solida e sapientemente calibrata. Leonardo separò il centro del cerchio da quello del quadrato. Mentre il primo ha un fulcro nell'ombelico dell'uomo, le diagonali del secondo si incontrano ai genitali. Leonardo spiega il processo alla fine della sezione in alto. Se un uomo apre le gambe in modo da ridurre la sua altezza di un quattordicesimo e solleva le braccia in modo tale che i palmi siano in linea con la testa, allora può essere iscritto in un cerchio. Nello stesso lasso di tempo in cui entrò in contatto con gli iscritti di Vitruvio, Da Vinci si stava adoperando nella misurazione e nello studio del corpo umano e delle sue proporzioni. Dopo mesi di indagini, l'artista disponeva di una panoramica pressoché completa delle proporzioni umane, tanto da confrontare i risultati dei suoi studi antropometrici con le indicazioni di Vitruvio. In base ai suoi studi, l'artista si rese conto che non gli era possibile rispettare tutti i parametri del canone vitruviano. Infatti, i risultati ottenuti da Leonardo, applicando il metodo scientifico, non corrispondevano ai valori indicati da Vitruvio. Semplificati e adattati al rigido sistema duodecimale di ascendenza greca in vigore all'epoca. Leonardo superò quindi l'unico canone delle proporzioni tramandato dall'antichità. Il disegno vinciano sancisce quindi il trionfo dell'empirismo, ossia della sperimentazione su campo, sulla fede, allora diffusa, nell'autorità degli antichi. Le conoscenze acquisite dall'esperienza e quindi dalla propria percezione e dagli esperimenti, hanno la supremazia sulla tradizione e sul nozionismo. C'è comunque da dire che lo scopo finale dell'antropometria leonardiana non era l'elaborazione di un canone alternativo a quello dell'antichità classica, ma l'uso delle proporzioni della figura umana nel disegno artistico e stabilire come variano le proporzioni delle sue membra in funzione del movimento. Solo nel Novecento si affermò una lettura non pragmatica ed un'elevazione metafisica con interpretazioni simboliche dell'uomo vitruviano di Leonardo. La composizione esprime le condizioni della creazione. La costruzione del disegno su due centri, il pene e l'ombelico, che presentano l'uomo sia come agente che come risultato della procreazione e come dimostrazione delle sue possibilità fisiche ed intellettuali. Siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo alla prossima pillola. Ciao! Ciao!